Ciao, sono Andy J. Forrest e sono qua per farti vedere questo, farvi vedere questo microfono del BlueX Lab, il nuovo modello col volume demontabile. E' bellissimo e io uso quello cromato anche ma questo è nuovo. E' bellissimo. E' bellissimo. Adesso sto suonando con un ampli piccolino, vi faccio vedere. E adesso il prossimo ampli per sentire un altro suono, vi faccio vedere questo. Stavo suonando con quello sulla destra. Adesso sentiamo col bassman. Stavo suonando con quello suonando. 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 Stavo suonando. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E quando la metti giù, sull'ampli, passa. Niente fischio! E questo con un delay di Lone Wolf. 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 A me piace perché è bello, suona bene, è leggero. E va bene, è un po' più piccolo dell'estatic. Però sta bene nella mano e non ti stanca. Se devi stare tante ore a suonare, è leggerissimo. Però se cade, non si rompe, non si è mai rotto. L'altro modello c'è il volume qua. Qua è meglio, è dimontabile questo. Piazza qua, così puoi fare pin e spegni. O bassi. Grazie, ciao. Piazza qua, così puoi. Piazza qua, così puoi. Piazza qua, così puoi. Piazza qua, così puoi.